Ora, vai se sexta? Ok, no. Ah, non è che vai. Che è un sistema benicolato? Bene, non è che si può. Non è che si può. Non è che non è che si può. Ah, eh? Grazie. You can already stay in the triangle, I think. Be at the top. You can be at the top. There, yeah. So we can put it here. I'm going to walk in the pit. I'm going to walk inside. I'm going to walk inside. I'm going to work inside. I'm so excited. Noi, noi. no ecco ok ok hai no hai 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 ah hai 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 ование yani che 表示 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.